Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. L'anticiclone momentaneamente sovrasta l'Italia, però ad ovest già spunta un'altra perturbazione che porterà dei fenomeni nel corso della settimana a partire dal nord. Per quanto riguarda il lungo termine, dal weekend si evince questa staccatura colorata di verde e azzurro che sta a indicare aria molto più fredda, tipicamente autunnale, che comincia quindi a intrufolarsi all'interno dell'Europa e che potrebbe lambire anche la nostra penisola a partire dal fine settimana. Per quanto riguarda questo martedì, una giornata stabile, estiva, sull'Abruzzo, con un cielo sereno praticamente ovunque, temperature massime tra i 28 e i 30 gradi. Quindi attorno alle medie o leggermente al di sopra delle medie stagionali. Le minime molto più credevoli tra i 14 e i 19 gradi, quindi particolarmente fresco nei settori più interni. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. A tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni e grazie per le stagionali. Stan